Conferenza interregionale CISL Abruzzo e Molise, oggi è Francavilla per rappresentare la rete di servizi che mettete a disposizione degli iscritti. Una giornata importante di lavori anche per fare un po' il punto della situazione. Sì, certamente. Noi abbiamo questa grande necessità di essere vicini a chi rappresentiamo, ma anche a chi ancora non rappresentiamo. Quindi essere un sindacato di prossimità, vicino ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani che ancora non trovano occupazione è fondamentale. Da questo punto di vista il ruolo dei servizi è altrettanto importante per quanto ci riguarda. Noi vogliamo creare un sistema di servizi a rete nel quale chi entra nella CISL è accompagnato in tutte le esigenze, in tutte le necessità, sia in termini di consulenza e sia di consiglio, di aspettative di vita e cose del genere. Questo vuol dire non farli sentire soli, con grande umanità e col grande senso di accoglienza che hanno i nostri operatori. Segretario, poche ore fa c'è stato il rapporto della Banca d'Italia che è stato illustrato agli abruzzesi. Si parla di una ripresa nella nostra regione. È veramente così? Ci sono dei dati e degli indicatori positivi? Noi vediamo nulla di nuovo su ciò che avevamo già analizzato. Certo, una ripresa è in dubbia, c'è oggettiva, ma è una ripresa quasi fisiologica. La ripresa vede tirare e trainare tutta la parte produttiva soltanto da parte delle grandi imprese. L'Abruzzo è fermo in termini di investimenti veri per quanto riguarda le piccole imprese e le micro imprese, che sono quelle che producono comunque l'85% del prodotto di questa regione. E lì c'è ancora bisogno di implementarle con innovazione, ricerca e con programmi mirati, che dovevano avere un loro sviluppo iniziale proprio dal master plan, che invece non è decollato. Manca ancora questo grande investimento pubblico, al quale si sta cercando di mettere rimedio in alcuni casi ultimamente. Crediamo molto anche nella logica delle ZES, ma io credo che l'infrastrutturazione e l'impegno pubblico siano fondamentali per dare un nuovo ruolo a questa parte dell'Abruzzo per crescere in modo omogeneo. Grazie. 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 Grazie.